Maradona è un'immagine che mi è simpatica ma non so niente di freddo non so niente di Maradona non so niente di Napoli non so niente di niente racconteremo l'effetto che ha avuto Maradona c'è un numero di miliardi di persone Napoli è sospesa tra l'inferno e il paradiso questo fa di questa città un purgatore Diego è stata l'unica promessa mantenuta per il sud Italia non gli veniva perdonato nulla perché siccome in campo non lo potevi abbattere cercavi di abbatterlo fuori 5 luglio 1984 stadio San Paolo ho realizzato questa immagine di Maradona che è un'icona ormai perché lui sale sale al cielo è Maradona è Maradona è Maradona quel pallone Ч'è Massin La carriere di Maradona ha fatto un obiettivo di consumazione e Maradona, senza lo sapere, ha fatto il lavoro di book emissario.